Il 13 e il 14 settembre va in scena nel Terramano un'anteprima assoluta nel panorama regionale. Dalle 18 a notte fonda una funi-measure tra suoni, atmosfere, sapori e leggende dell'isola di Smeraldo, dalla collaborazione tra l'amministrazione di Notaresco e i giovani dell'associazione Innocent Smith. Un festival irlandese in cui sarà presente sia la musica irlandese tradizionale o musica più da palco, più eventi culturali, tra cui un reading poetico, una degustazione di sigari e whisky, poi ci sarà una mostra fotografica e un percorso sui castelli, i misteri dei castelli irlandesi. Come nasce l'iniziativa? Grazie alla passione che abbiamo noi all'interno dell'associazione per l'Irlanda, il fascino di questa nazione che ci ricorda anche un po' la nostra, perché è una nazione di 4 milioni e mezzo di persone, più piccola di Roma, che però hanno una storia incredibile che conosce tutto il mondo. Ad ospitare un'anteprima assoluta nel panorama regionale è notaresco. Era una mission che ci eravamo preposti dall'inizio dell'anno di amministrazione, quella di fare una cosa diversa dagli altri paesi limitrofi, di trovare un evento veramente diverso non solo nella provincia italiana ma nella regione Abruzzo. E così abbiamo, ecco, siamo trovati nell'idea dell'Innocent Smith di realizzare il primo Abruzzo Irish Festival, un festival irlandese tipico con uno scambio culturale tra l'Abruzzo e l'Irlanda. Adesso così sembra in maniera molto grandiosa, però ecco, questa è l'idea, dove è nata e dove siamo partiti. Assessore, è un evento che arriva a conclusione di un panorama estivo abbastanza allargato quest'anno? Abbiamo provato a soddisfare un po' tutte le esigenze e chiudiamo con l'Aeris Festival, l'Abruzzo Irish Festival, che per noi è una prima volta in assoluto. Sono soddisfatta e spaventata allo stesso tempo, l'adrenalina che cresce ci permetterà di fare benissimo le cose. Cominciamo domani sera, per concludere domani sabato 13, per concludere domenica sera. Ci stiamo organizzando per far trovare a chi arriva il massimo dei servizi, quindi noi speriamo bene.